L'idea è stata quella di proiettare la narrazione originaria in un mondo microscopico di insetti, così come nella narrazione originaria abbiamo a che fare con un sacrificio che avviene per poter permettere di avere la fertilità della terra, per poter permettere di avere più vita. Esattamente questo meccanismo noi lo ritroviamo uguale in tantissimi meccanismi naturali. Quindi da un'esigenza cultuale di un rito pagano, antico, ritroviamo la stessa situazione in un'esigenza naturale.